Amanciano, piccolo borgo grossetano, in occasione del palio delle botti, si respira un'atmosfera meravigliosa. Il paese, diviso in serioni, si veste a festa e si sfida in una gara che permetterà solo al vincitore di innalzare il tanto conteso drappo. Fra musica, sfide e simpatici sberleffi, venite a scoprire con noi questa splendida festa. Eccola, ci sono tante sfumature, anche nel colore delle scottature, le abrasioni di questa vita ci fa. Mentre inesorabili, tiriamo avanti questo show, ho forte mal di testa pure a vincolarmi, come tu qua nel tuo cuore mi riprescherò. Siamo con Sergio Pietretti, speaker ufficiale del palio delle botti e proprio per l'occasione ci troviamo qui nel bellissimo centro storico di Manciano. Quando e come nasce l'idea di dar vita ad una manifestazione di questo genere? Allora, la manifestazione nasce cinque anni fa per una idea dell'allora prologo Manciano di cui facevo parte e abbiamo avuto l'idea, ispirandoci comunque a quella che è la tradizione toscana, quindi di pali, di queste gare che ci sono in molti centri medievali e storici della Toscana. Quindi nacque questa idea di dividere il paese in rioni, in sei rioni per l'appunto, e di fare questa, una specie di rievocazione appunto di un palio. E quindi non volendo utilizzare animali abbiamo detto, vabbè perché non utilizziamo le persone? E allora abbiamo voluto ideare questa manifestazione con le botti, dividendo il paese appunto in sei rioni e in sei rioni che spingono ognuno la sua botte. La manifestazione è giovane, in quanto è soltanto cinque anni che ha preso il via, ma comunque sia ben gradita. Infatti sono molti coloro che vengono a vedere il palio, ma sono anche molti coloro che partecipano. Guarda, la cosa che ci ha colpito di più, quando è stata ideata, ovviamente non si sapeva l'appeal che poteva avere nella popolazione. Invece hanno cominciato subito a fare queste scene rionali, questi allenamenti, e quindi da lì ci siamo resi conto che la cosa aveva attecchito. E infatti se voi fate un giro per il paese, vedete tutti i rioni addobbati, ma sono le persone comuni, cioè non è il comune, sono i cittadini che comunque comprano le coccarde, si preparano le bandiere. È molto sentita dai ragazzini, insomma tutti i ragazzi fanno di tutto per correre il proprio rione, per portare a casa il palio che ogni anno viene dipinto da un artista locale. Da un paio di anni c'è anche una premiazione della botte più bella, cioè ogni rione demanda a un suo abitante, artista, la realizzazione di una botte, che poi magari vi mostrerò, e viene premiata anche la botte più bella, la botte più artistica. E quindi un'ottima idea che ha reso più vivace questo bellissimo paese. Ma andiamo un attimo nel succo della festa e spiegaci come si svolge il palio. Bene, allora, il palio, come vi ho prima detto, Manciano è diviso in sei rioni. I rioni sono il borgo, il cassero, l'imposto, le fonti, il monumento e il mulinello. Allora, ogni squadra, ogni rione è formato da otto bottai, si chiamano bottai, coloro che spingono le botti. Il circuito viene fatto due volte, sono due giri, e praticamente ogni giro è fatto da quattro bottai, due e poi la staffetta di due che si danno sempre il cambio. Praticamente cosa succede? Vengono adesso, tra poco vedrete, sorteggiate gli accoppiamenti, quindi saranno tre accoppiamenti, e i vincenti accedono immediatamente alla semifinale. Il miglior tempo della perdente va comunque in semifinale. Poi c'è la semifinale appunto tra le quattro rimaste, e poi la finale tra le due rimaste, e insomma ne rimane soltanto una, e quella si aggiudica il cencio e il palio appunto, che quest'anno è stato dipinto da una grande artista di Manciano che si chiama Gemma Detti, che è anche piuttosto famosa avendo fatto delle manifestazioni anche a Roma, insomma è un'artista piuttosto quotata, ecco, infatti il palio di quest'anno è veramente bello. E quindi nulla, vinca il migliore. Allora questo è il cencio di quest'anno, il palio 2014 dipinto dall'artista mancianese Gemma Detti. Questo sarà quello che si contenderanno i serioni tra poco. Questa è la botte del rione Borgo, che è stata dipinta dall'artista Bozena Kroll. È un'artista polacca che però vive qui a Manciano. Quella che vedete dietro era la botte dell'anno scorso, quella in gara è questa davanti. Se ci spostiamo vediamo la botte dell'imposto, che è stata dipinta dall'artista mancianese Renzo Cappelletti. Quest'altra era la botte dell'anno scorso, questa è quella che concorre, questa davanti. Si possono vedere infatti delle immagini degli scorci di Manciano. Su quella invece di prima, di Bozena Kroll, c'è dipinta tutte le fasi della vendemmia. Questa è la botte del rione Mulinello di quest'anno. È stata dipinta dall'artista Gemma Detti. Raffigura un uomo, un signorotto, che torna nel paese dopo tempo e quindi si veste a festa con i colori del proprio rione per partecipare al palio. Questa era la botte dell'anno scorso del Mulinello, che raffigura lo stemma del Mulinello. Ci voltiamo e abbiamo la botte di quest'anno del rione Cassero, dipinta dall'artista Moira Pellegrini, di Manciano, lei è artista per diletto. Qui possiamo vedere la fauna tipica della Maremma, quindi possiamo vedere il cane, il fagiano. È una botte che un pochino esula dagli altri tipi. Quella accanto è la botte che l'anno scorso è stata premiata come miglior botte, sempre dipinta da Moira Pellegrini e l'anno scorso il Cassero vinse. Si aggiudicò come il rione della botte più bella con questa botte qua. Abbiamo invece le botti del rione Monumento. Questa è la botte che concorre quest'anno, dipinta dall'artista mancianese Meriana Pellegrini. Ecco qua si vedono comunque degli scorci lo stesso del paese di Manciano. E questa era la botte che concorse l'anno scorso. Questa, come ultima, è la botte del rione Fonti, dipinta dall'artista mancianese Alberto Bernardini. Raffigura le vecchie fonti di Manciano, adesso non esistono più, sono state riprese, infatti c'è scritto le fonti 1935, sono state riprese da una foto dell'epoca, era una delle vecchie fonti di Manciano. Quella accanto era la botte dell'anno scorso che avevano fatto in maniera un po' ironica, un po' comica. Quell'anno scorso le fonti avevano scelto di fare una cosa un po' diversa, un po' fuori dagli schemi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.